Un saluto dall'ETG della mobilità. Sino al 15 di gennaio, lo ricordiamo, sono sospese le zone a traffico limitato diurne e notturne di Centro, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Il provvedimento è stato preso dal Campidoglio per agevolare gli spostamenti in città durante questa fase dell'emergenza sanitaria. Restano attive le ZTL, merci e VAM. Da ricordare poi che resta in vigore il divieto notturno di spostamenti tra le 22 e le 5, salvo ragioni di salute, lavoro o altra urgenza.